Un saluto dalla produzione Hibbler. Stavo guardando le ISS, tra virgolette, live e osservate bene. Fate attenzione, esattamente in quest'area. Voglio dire, per amor di Dio, gente, se pensate ancora che questa cacca sia vera, per favore, non seguitemi. Ricordo a tutti che dal 22 aprile 2022 uscirà il secondo Level. Per vedere il primo Level, invito a scorrere attraverso Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu fino a Level di Eric Dubay e, una volta aperto il video di YouTube, in basso a destra aprite le impostazioni dei sottotitoli. Scegliete italiano! Ciao, Dino! Ciao, Dino!